Allora parto con una premessa, anzi facciamo due. La prima, mi scuso, purtroppo da lunedì ho beccato un simpaticissimo mal di gola, quindi avrò questa voce non proprio sexy durante il talk e può scappare che tossisco qualche volta, al massimo mi prendete fuori e mi picchiate. L'altra premessa richiede la vostra piccola partecipazione, ci mettiamo veramente 20 secondi però è una cosa davvero importante, dovreste alzare una delle due mani, una qualunque, a stella così, ok perfetto, e tiriamo giù le due dita, l'anulare e il medio, proprio rock and roll, perfetto. Tra pochissimo vi spiego perché, mi raccomando rimanete così due secondi ancora. Grandissimi grazie. Tra poco vi spiego anche perché. Allora, sono l'ultimo di questa track e quindi dopo di questo si va a bere, ci si va a rilassare, quindi resistete ancora un attimino che poi si va di birra. C'è un altro? Mi hanno mentito, io già che me la tiravo, sono l'ultimo, mi fanno chiudere le cose. Vabbè, pazienza. Io do per scontato che molti di voi utilizzino, lavorino con AngularJS? Per sicurezza chiedo conferma, chi usa AngularJS? Ok, più o meno che me l'aspettavo. Essendo appunto un talk basato su una migrazione. Qualcuno di voi ha già messo mano, lavora, migrato a React? Buono, diciamo che siete un pubblico abbastanza targetizzato. Ottimo. Allora, parto velocemente da chi sono io, mi chiamo Salvatore Laisa, che è l'informazione più importante e non l'ho scritta, perché l'ho scritta nella slide prima. Attualmente sono frontend engineer presso Contact Lab, velocemente su di me sono proprietario di una gatta abbastanza grassa, novellino del Kung Fu iniziato da poco è una cosa che mi ha aperto la mente, mi piace tantissimo Doctor Wu, penso sia una delle mie riserie di sempre, gli ultimi 50 anni di sicuro. E niente, se siete interessati proprio di seguirmi ogni tanto, quel mio account Twitter, l'altro è il mio sito che da poco ho trasformato in blog su Ghost, che JavaScript ci sta. Sempre su di me è una cosa veloce, perché vi ho fatto fare quella foto, perché mi sono fatto un regalo, Code Motion mi ha fatto un regalo, perché oggi è il mio compleanno, quindi come foto, come regalo volevo… grazie, grazie. Non è stata una cosa calcolata, quando mi hanno detto, abbiamo citato la tua proposta di talk, sei sabato 21 novembre, dico, caspita, fantastico, è anche il mio compleanno, quindi… Certo! Ho i miei fantasoldi sempre con me per queste occasioni. E appunto quella foto lì era un regalo per me, volevo ricordarmi di tanta gente che inneggiava qualcosa, anche senza un apparente motivo. Niente, per il resto questa è stata un po' la mia storia a livello professionale, perché ve la faccio vedere, non perché devo tirarmela di qualcosa, perché non ci sono nomi particolarmente grossi, sì, IVS un pochino, ma perché dopo torneremo su il discorso dell'evoluzione, dei tempi che cambiano. E dal 2007 a oggi, come sappiamo, nell'ambito front-end sono cambiate tante cose. Potremmo dire che nel 2007 probabilmente front-end non si diceva neanche come parola. Era una cosa molto strana. Allora, qual è il mio obiettivo oggi, il mio obiettivo adesso? È raccontarvi la mia esperienza di migrazione appunto da Angular a React. Perché faccio questo? Perché voglio raccontarvi una storia e annoiarvi tutti. No, perché sono sicuro che qualcuno di voi ci passerà, qualcun altro ha intenzione di passarci, qualcuno si è già passato e quindi voglio condividere un po' le vittorie, le sconfitte, le volte che ho picchiato i pugni sul tavolo perché non funzionava niente. E dico, caspita, ma sono tutte queste robe qua di Java, non riesco a far andare una cosa. Allo scopo di evitarvi questi sbagli, di darvi qualche input di più a voi e magari un domani venire a sentire un vostro talk qua che mi dirà a me come migrare verso qualcos'altro in maniera un po' più indolore. Allora, qualcuno di voi magari l'avrà colto, il titolo di questo talk l'ho chiamato Un viaggio inaspettato, non perché mi siano piaciuti i film dell'Hobbit, perché onestamente ho sbadigliato, Signore di Anelli lo adoro ma i film dell'Hobbit ho sbadigliato, per due motivi. Innanzitutto è che come vedremo è stato veramente un viaggio inaspettato, appunto non ero partito dall'idea di cambiare così tante idee. La seconda cosa è che volevo un attimino omaggiare Tolkien, che comunque è stato uno scrittore che ha preso me stesso tredicenne, che non leggeva libri e gli ha fatto leggere Signore di Anelli in tre settimane perché gli piaceva. Quindi è stato, penso, colui che devo ringraziare per aver iniziato ad avere una cultura, che fino ai tredici anni per me videogiochi e basta. Poi dopo Signore di Anelli qualche libro anche. Sapete cos'è un titolo clickbait? Eccoci siete cascati. Ho chiamato questo talk così per ingannarvi. No, per chi non sapesse cos'è un titolo clickbait è il titolo con cui appunto si cerca di ingannare gli utenti su internet. A me è successo qualche settimana fa, leggo un post, rivelata scena segreta di Avengers Age of Ultron. Caspita, andiamo a vedere qual è, qual è? Clicco e il corpo dell'articolo dice, sì c'è una scena segreta di Avengers Age of Ultron che non è ancora stata rivelata. Eh, fantastico, grazie. Questo è un titolo clickbait, quando ti mettono la scimmia ma poi in realtà non ti dicono niente. Non sono venuto qui a parlare solo di Angular a React, o meglio, ho cambiato un po' idea. Potrei magari parlare della migrazione da Backbone a Polymer. Magari qualcuno di voi ha usato Backbone, magari qualcuno di voi ha fatto un pensilino a Polymer. Ma potremmo anche parlare della migrazione da Angular ad Angular 2. Perché no? A questo punto starete pensando, ok, hai le idee un po' confuse, non sai neanche tu di cosa vuoi fare il talk. No, in realtà lo so e questo sarà un punto su cui insisterò molto. In realtà il titolo clickbait era un metodo un po' più gentile per trattare questa migrazione. Ovvero, la migrazione da un paradigma MVC al paradigma dei componenti, che in realtà c'è un nome un po' più preciso. Perché io credo ultimamente, molto fortemente, nel non credere ai framework. Nel senso, finché ci sono e tirano belli, ma dobbiamo imparare a sopravvivere anche senza di loro. E questo... Sì, sono diventato grande, lo so, grazie. Non è facile, perché siamo in un settore che cambia sempre, lo sappiamo tantissimo, però quando diciamo in giro che è un settore che cambia sempre, diciamo, ma che figata, un settore che cambia sempre, non ci si annoia mai. Però quando poi abbiamo veramente a che fare con questo cambiamento, a volte fastidioso, nel mio caso, diciamo, caspata, ho appena iniziato a diventare bravino con Angular, ma mi mettete davanti un'altra roba. Stiamo fermi cinque minuti? No. E quindi, avendo affrontato per l'inizio di un'oltre questa migrazione, ho detto, forse è meglio iniziare a ragionare, non più per framework, ma più per paradigmi. Quindi ho diviso il discorso in quattro step principali. Il primo è il background, step nei quali vi racconto appunto la mia migrazione. Mi sento un po' trovisico quando si parla di migrazione. Ah, migrante? Perché ha visto i suoi film. Allora, come comincia la mia storia? Comincia che ci sono io, che appunto, avendo iniziato seriamente a fare il web designer nel 2007, ora che siamo nel 2015, ho sette anni di esperienza, quindi sono abbastanza, qualcosina ne so, sono abbastanza confidente nelle mie capacità. Sono molto, seguo molto il settore tech e dello sviluppo web. Ho la fortuna di fare il lavoro che mi piace. Non è che lo sapevo qualche anno fa, mi sono reso conto che mi piacevano queste cose, fortunatamente ci lavoro e quindi mi piace anche starci dietro. Seguo tanto anche le community locali e non solo quelle locali, perché Code Motion non è la prima volta che ci vengo sia come partecipante che come speaker. Code Motion lo seguo già dal 2011, dalla prima edizione. Qui a Milano sono coorganizzatore del gruppo Amsterdam Milan, vado spesso alle serate di MilanoJS, di M&M in Milano, quindi nel senso mi piace seguire un po' i user graph, sentire un po' cosa si combina. In realtà non è vero, questa è tutta una scusa per poi andare a bere birra, come tutti questi meetup. Sì, parliamo un attimo di tecnologia, ma poi birra, quella è una cosa importante. Ho lavorato abbastanza intensamente con AngularJS dal 2012. AngularJS mi pare che era stato rilasciato in beta nel 2010, quindi sono stato abbastanza, non voglio dire uno dei primi, però quelli della prima e seconda ondata. Oggi è proprio mainstream, quasi se non usi AngularJS non sei nessuno. Però se ci pensiamo, ok, uso AngularJS dal 2012, urca quanto tempo, perché prima proprio non c'era. Quindi tre anni di esperienza, diciamo due e mezzo, perché comunque la storia in realtà è ambientata intorno a giugno. Quindi dice, ok, non è che è una cosa che ci smanetti da anni. Questo talk qua espone un po' il contrario di alcune cose che ha detto il ragazzo del talk precedente, lì si parlava di Erlang, qualcosa che ha 30 anni di esperienza. Nel web, cioè nel frontend, scusate, nel frontend non esistono 30 anni di esperienza. Ma la pena, appunto, superiamo i due o tre. E appunto mi piace stare aggiornato sul mondo di JavaScript, cosa si combina, quanti framework escono. Altro scoperto che c'è un sito che si chiama Days Since Last JavaScript Framework, una cosa del genere, che fa il countdown dall'ultimo framework JavaScript che è uscito, perché ormai, come sappiamo, sono veramente a quantità industriali. Allora, cosa succede intorno a giugno? Cambio lavoro, decido di dare così una botta di vita alla mia vita, come il gioco di parole, e inizio a lavorare presso questa azienda che si chiama Contact Lab, che è un'azienda che c'è da tanti anni, appunto dal 98, e hanno da poco messo su un team di ricerca e sviluppo per nuovi prodotti. Il che è quando mi hanno detto, sì, c'è un nuovo team, quindi non si lavora su qualcosa di già esistente, si lavora principalmente su tutta una serie di prodotti nuovi, prototyping, e ho detto, caspita, vabbè, R&D per uno sbanettone, cioè, stai praticamente buttando un pesce nell'acqua. Ho detto, vabbè, ci sta, facciamo, sembra, sounds good, sembra bello. Che richieste sono state fatte al mio team quando poi è stato formato, sono entrato anch'io e abbiamo iniziato a lavorare, di prototipizzare e costruire una suite di prodotti, quindi non uno. L'idea è, appunto, creare più prodotti, ovviamente che dialogano tra di loro, in modo tale da poter spezzettare poi l'offerta ai clienti in base a quello che gli serve, un po' come il concetto della creative suite per chi l'ha mai usata, quindi se ti serve tutto, tipi di tutto, se no hai singoli blocchi, molto modulare. Ovviamente questi prodotti, queste applicazioni dovranno avere un look and feel consistente, e questo non era il lavoro mio, è stato il lavoro poi della parte, appunto, di design e di UX, e ovviamente se la UI deve essere consistente tra i vari prodotti, anche le interazioni base dovranno essere, quindi ci saranno tutta una serie di aspetti che dovranno essere condivisi. E allora uno dice, ok, a questo punto è giunto forse il momento, e si costruisce tutto da zero, scusate, e quindi si parte proprio dallo zero assoluto, non c'è quasi niente di preesistente. Il che, sapendo che si parteva da zero, ha detto, ok, ora cosa faccio? Lo faccio con Angular, soprattutto Angular 1 che io ho voluto tanto bene, ma sappiamo che tra un po' esce il 2, che non c'entra più niente, poi c'è React, poi c'è Polio, e dici, ma, iniziare oggi un progetto che durerà qualche anno con Angular 1 forse non è la scelta migliore. Sono uno sbanettone, sbanettiamo. Quindi mi hanno detto, pronti partenza via, io da bravo sbanettone cosa ho fatto? Ho fatto questo. Andiamo a prendere un nuovo framework e lo buttiamo nel progetto e subito via, però ti entusiasta, cioè contentissima, ha detto via, via. E qua è stato il momento dell'intoppo, appunto perché ho ridotto le facoltà del mio cervello dal 20% allo 0,2, no, allo 2%. Mi sono fatto prendere l'entusiasmo, uno dice, ma sì, uso JavaScript da tanti di quegli anni che, chi se ne frega, cioè, apro un framework qualunque lo uso, ormai non mi spaventa più niente. Ho commesso l'errore di sottovalutare il nemico. E qui si entra nella seconda fase. Cosa è successo quando hai iniziato questo nuovo progetto abbastanza ambizioso su un framework che non conoscevi minimamente, che pensavi che sarebbe bastato a cambiare sintassi ed era tutto fatto? Succedono una serie di cose. La prima, fare amicizia con il JSX, cioè conoscere il JSX. Uno si guarda React, poi guarda la parte in cui si dice, vabbè, dai, sì, è JavaScript, è JavaScript, è JavaScript, e poi ad un certo punto dentro il JavaScript appare dell'HTML. E poi si dice, oh, 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 no, 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 frena, frena, frena. Cioè già ho fatto fatica con Angular a tornare a mettere gli event listener nell'HTML, perché c'è stato un periodo nel mondo dello sviluppo web dove gli evangelisti dicevano tutti, no, deve essere tutto perfettamente separato, quindi HTML, CSS, JavaScript, GQuery, che allora era la moda, gli event listener li agganci da JavaScript, non metti il JavaScript nell'HTML, è sbagliato, è male, Dio ti odia, va bene. E quindi, seguendo tutte queste cose qua, ho detto, farò così. Arriva AngularJS e già inizia a cambiare un pochino la carta in tavola che dice, ma sì, tu metti qualche data binding qua, poi metti l'event listener direttamente nell'HTML, ma sì, tanto non lo vede nessuno, vai tranquillo. Le premesse di Angular, per quanto ho voluto bene, un po' erano queste. Però lì l'ho mandata giù perché ho detto, vabbè, ok Angular, mi fai fare questa cosa che non volevo fare perché mi hanno detto di non fare. Però effettivamente mi ha dato una serie di vantaggi, tra cui soprattutto il templating, lato client, fatto discretamente bene. Sta roba qua però, no, cioè ragazzi, non ce la facevo proprio. Non è che gli voglio male a chi ha fatto React. E poi non ce la facevo. E già qui dici, boh, vabbè, mo' torniamo indietro per dire di andare avanti. E' stata un po' la mia prima reazione. Poi, non so chi di voi abbia mai buttato un po' l'occhio sulla documentazione di React. C'è una paginetta dove si parla di far comunicare i componenti fra di loro, che adesso l'hanno corretta un pochino, prima era ancora più brutale. Dice, for communication between, vabbè, per farla breve, se volete far comunicare due componenti che non c'entrano niente l'uno con l'altro, ma createvi un vostro sistema di eventi, cioè, cosa volete da noi? Ragazzi, è lì, è scritto, ma sì, puoi mettere su un tuo sistema di eventi globale e divertiti. Io l'ho letto, la mia prima reazione, cos'è un sistema globale di eventi? Cioè, nel senso, sì che so cos'è, ma io non l'ho mai costruito da zero. Probabilmente pensano di parlare direttamente con Brandon H, quindi dico, boh, vabbè. Poi adesso l'hanno corretto perché essendoci a disposizione Flax, dicono, ma guarda che comunque queste robe qua le puoi fare con Flax, hanno un attimino corretto il tiro, però la mia prima reazione vedendo il JSX, vedendo questa roba qua, è stata questa. E non è facile, non è facile iniziare a studiare un framework che inizia subito con delle cose che proprio a pelle ti dà un fastidio. Cosa che vanno nella mia gatta di una mia amica, però rende molto l'idea. Poi cos'altro succede? Inizia, guardate un po' React, arrivando da Angular e vedi che non c'è routing, non c'è un equivalente del dollaro HTTP, non c'è un sistema di templating esterno, non c'è un to-way data binding e anche io comincio a sentirmi non proprio bene. tutte le cose a cui mi ero affezionato di Angular non ci sono. E ancora è così. E questo viene, tra virgolette, sbroiato da React dicendo, ah ma noi non siamo un framework MVC, noi siamo la V dell'MVC. Sicuramente se avete guardato le prime pagine della documentazione di React questa frase è gigantesca. No, no, è solo la V dell'MVC, quindi arrangiatevi. E lì uno dice, ok, inizio a non capire cosa ci sia di così figo in questo React dato che tutte le cose che mi dava comodità Angular qua non ci sono e proprio ai tempi non avevano ancora minimamente implementato. Appunto c'è il routing che, caspita, il fatto di poter definire le rotte, caricare le partial in maniera abbastanza semplice, dollaro HTTP, quindi le chiamate asincrone senza per usare jQuery o equivalenti, il poter chiamare i template esterni, l'avere il two-way data binding in maniera semplice. Ragazzi ho scritto no easy two-way data binding, perché in realtà in React c'è il two-way data binding. È nascosto nella documentazione, è un modulino a parte che dovete agganciare, però loro dicono noi l'abbiamo fatto, ma chiudete gli occhi e fate finta che non c'è. Perché se ho resi conto che ogni tanto un pochino serve. E vabbè, rimango un attimino scioccato da tutti questi cambiamenti. Qual è la conclusione di tutto questo? Non è React fa schifo, perché se regisci così avete finito di fare questo lavoro. È stato chiedermi, ok, ma perché arrivo a un momento diciamo abbastanza chiave nei trend di JavaScript dove non mi sento a mio agio. Cosa è successo? Appunto fino a ieri ogni cambiamento lo abbracciavo senza problemi, arrivo qua e c'è qualcosa che non va. Mi rendo conto di una cosa. Ero entrato nel lato oscuro di Angular, ero entrato nel lato oscuro dei framework. Qual è il lato oscuro dei framework? È quando il tuo lavoro dipende... No, no, non è col cotone, sono rimasto valorito. È quando il tuo lavoro, la tua carriera dipende da un framework. Quindi tolto quello, non faccio il gesto di maccio capatonda, ma avete capito che succede. Ed è stato qua che mi sono ricordato appunto che è sbagliato affezionarsi ai framework, è sbagliato affezionarsi alle cose, chiamiamo le cose, del mondo e del front end. E non solo, ma del web in generale. Era stato sbagliato affezionarsi a MySpace perché poi si sarebbe caduto, era stato sbagliato affezionarsi a tecnologie come Flash perché poi ci sono state tolte sotto il naso da un giorno all'altro. Sappiamo che il web è mutevole e il front end è ancora peggio. è incasinato e mutevole. Allora cosa ho fatto? Dato che mi sono perso un attimo, perché mi sono reso conto che non sto più seguendo bene la filosofia del web, del cambiamento, del riuscire ad andare sempre avanti, ho detto ok, mi sono perso, facciamo una cosa fatta bene, perdiamoci alla grande. Quindi dato che non ci ho capito niente di React, se adesso cosa faccio, vado a vedermi anche Polymer e Angular 2. E voi direte, ma perché? Ma sei fuori di testa. Ovviamente questo non l'ho fatto tutto il lavoro, l'ho fatto anche qualcosina a casa perché non è che a lavoro potevo dire, ma ragazzi sto guardando un attimo delle robe di cui non capisco niente perché voglio capire quanto non ci ho capito niente. ovviamente sono cose in cui ci ho dedicato una discreta porzione di tempo a casa. Perché ho fatto questo? Perché appunto sappiamo che c'era il meme di Game of Thrones, Angular 2 is coming, cioè Angular 2 sta arrivando, Polymer, se appunto seguite il settore sapete che è un altro framework che si sta facendo sentire. Quindi appunto siamo a un momento di svolta, stiamo entrando nella next generation dei framework JavaScript. C'è stato il periodo jQuery, c'è stato il periodo Angular, il prossimo periodo sono loro. E ho trovato questa cosa in comune, il fatto che sia React che Polymer che Angular 2 abbandonano l'MVC. Quindi il perdermi alla grande è servito a questo, a rendermi conto che nel prossimo giro del framework JavaScript il concetto di MVC viene meno e si entra nel mondo dei componenti. Quindi lì mi sono detto ok allora va bene studiarsi React però prima c'è da capire sti cavoli componenti come funzionano. Quindi è lì la migrazione vera da fare. E qua entriamo nella terza fase. Cosa ho imparato? A pensare in componenti. Cosa vuol dire thinking in components? Qua sto facendo un po' il verso a una pagina della documentazione di React che si chiama Thinking in React e un talk del Polymer Summit che si chiama Thinking in Polymer dove essenzialmente dicevano la stessa cosa a modo loro. Quindi ho detto facciamo thinking in components, facciamo qualcosa di agnostico. Allora come funziona? Qual è il ragionamento a componenti? Che in realtà come paradigma ha un nome, ha quello del mediator pattern. Quindi si abbandona l'MVC per avvicinarsi al mediator. Io creo un componente, facciamo per esempio quello violetto di sinistra che chiamo pulsante. Gli do una serie di proprietà, gli do una serie di comportamenti, dico che questo pulsante tramite dei parametri può avere un aspetto diverso, può avere l'icona, può avere l'icona e basta. E mi fermo lì. Questo componente è finito. Quando io finisco un componente, in teoria non ci dovrei più mettere mano. È un qualcosa che poi deve essere in grado di vivere da solo. Poi dici, vabbè ma se poi devi collegare un'azione, chi se ne frega? Non è lo scopo di quel componente collegare l'azione. Lo scopo di quel componente è rappresentare il pulsante. Fine. E inoltre ho fatto questo, mi muovo oltre. Poi faccio il secondo componente, quello viola di destra. E decido che questo sarà un componente che renderizza una lista. Quindi se io gli do un array, un array di oggetti, quello che vogliamo, mi stampa tanti li, tanti quanti gli elementi della lista. Lo stilo per bene, lo sistemo tutto quanto e stop. Mi fermo lì. Anche qua non me ne frega niente di da dove arrivano i dati. Lo scopo del componente non è andare a caricare i dati. Lo scopo del componente è renderizzare una lista, renderizzare un li in base ad un array che gli viene dato. E questo è il primo step del ragionare componenti. Quindi dare a ogni componente, cioè atomizzare le funzionalità e dare a ogni componente uno scopo preciso senza preoccuparsi di cosa c'è il dopo. Ovvio la visione di insieme serve, però il componente deve lavorare sempre e comunque indipendentemente dal contesto per essere fatto bene. Il mediator pattern cosa mi dice? Mi dice che ok, tu hai fatto un componente, pulsante un componente che renderizza una lista, fai un terzo componente parent che wrap questi due e sarà lui a determinare in base al click sul pulsante che chiamata sincrona fare e quali dati dare al componente della lista. Appunto questo componente, il parent prende il nome di mediatore, quindi non c'è più il controller che fa un po' il burattinaio che gestisce tutto. Abbiamo i componenti che sono appunto le piccole entità a sé stanti wrappati dentro dei mediator che si occupano di dargli la logica. Quindi il mediator dice quando vedo che clicca il pulsante chiamo un certo endpoint e l'array che mi torna indietro lo do all'altro componente che si occupa di renderizzarlo. In questo modo qua vedete che stiamo ragionando a step. Una volta che abbiamo detto il pulsante si occupa di funzionare se clicca, la lista si occupa di renderizzare una lista, una volta che la do non ci torno più su di loro. Passo al mediator. Il mediator probabilmente non avrà neanche un aspetto, magari un componente, un tag che io lo metto per frappare questi due ma graficamente non fa niente. Appunto dal contesto ai due componenti children. Fatto questo cosa succede? Ok abbiamo creato tra virgolette un widget e questo widget dove andrà? Andrà all'interno di una struttura ancora più grande. Quindi questo è il funzionamento dei componenti, questo è il mediator pattern. Il fatto è che io vado a creare un qualcosa che poi viene incapsulato dentro un altro componente che poi viene incapsulato dentro un altro componente. Un paragone molto bello che hanno fatto i ragazzi di Polymer è stato il Lego. Devo ragionare a Lego. Beh ricordi il Lego. Infatti dopo che ho iniziato a usare Polymer sono andato a comprare del Lego e non sto scherzando. Era da tanto che non ci mettevo più mano e volevo tornare un attimino bambino. Quindi l'architettura diventa un'architettura appunto a blocchi. Blocchi, contengono blocchi, contengono blocchi, in modo tale che così abbiamo una divisione delle responsabilità, una divisione dei compiti, non abbiamo più bisogno di... sarà molto più difficile andare a causare delle regressioni. Non ho detto impossibile, altro lì. Ho detto che sarà più difficile causare delle regressioni perché se il componente si occupa di una singola funzionalità e funziona, cioè se il test di quel componente passa, non sarà un parent a distruggerlo. Quello continuerà a funzionare, quindi l'errore sarà nel mediatore che gli sta passando i dati o che gli sta passando l'evento o che fa qualunque altra cosa. Quindi è un po' più facile isolare i problemi, ma soprattutto è molto molto più facile trasportare questi blocchi in giro per l'applicazione o in giro tra più applicazioni. E appunto, soprattutto se mi trovo a dover fare una suite di prodotti, questo è un fattore veramente determinante. Il fatto che non devo più copiare a incollare, ho veramente un qualcosa che io incorporo nella pagina, scrivo il mio tag che mi sono creato, boom, e quello funziona. Poi se ho bisogno, gli passo dei parametri, ma quello funziona così com'è. Altra cosa che ho imparato iniziando a studiarmi appunto React e Polymer, soprattutto React, React ha un API molto minimale. Cioè questa è proprio la pagina della documentazione che si occupa delle API vere e proprie di React. Poi ci sono altre pagine, ma sono più che altro divulgative, ti dicono i moduli aggiuntivi, bla bla, ma le API sono veramente ridotte al minimo. E anche la documentazione, come avete visto, ridotta al minimo. Perché si dice fatti tu il tuo sistema di eventi, dici, vabbè. E altra cosa importante, vanilla JavaScript for the world. Perché anche Angular lavora con vanilla JavaScript, ma Angular ci è abituati per troppo tempo al dollaroscope. E il dollaroscope non ci permette di essere veramente vanilla JavaScript. Il dollaroscope ci obbliga a lavorare sì con JavaScript nativo, ma con un termine un po' brutto perché sarebbe scopati all'interno di quell'oggetto. Però appunto non lo dico più, basta, non lo riesco a dire. In italiano non si può dire. Contestualizzati, dai. Forse è un po' più che poi tutti pensano di nuovo. L'altra cosa che mi sono detto, ok, facciamoci forza, andiamo avanti, superiamo il discorso il JSX. Il JSX all'inizio ti dicono, no, no, ma tranquilli, il JSX è semplicemente HTML, non devi cambiare molto. E questa è stata un'altra cosa a fregatura, perché in realtà non è proprio HTML uguale uguale, alcune cose vanno trasportate. Quindi nel momento che io prendo il mio template HTML di un qualunque componente Angular e lo porto in React, non funzionerà out of the box. Dovrete fare una serie di correzioni. All'inizio sembravano uno o due, poi facendo la manella mi sono reso conto che erano un po' di più. Fortunatamente ho scoperto che ho metto a disposizione a quest'url un tool visuale quale incollate dell'HTML e ve lo traduce in JSX. Quindi questo è molto comodo se avete qualcosa di preesistente e lo volete portare su React. Perché appunto non sono cose, è vero che dicono che non sono modifiche gigantesche, ma se prendete 200 righe di HTML e le dovete convertire in JSX, è veramente noioso, perché class diventa class name, perché altre cose vanno usate in dei nomi leggermente diversi, quindi dopo un po' uno dice, e vabbè che pizza. Questo chiamiamolo compilatore da HTML e JSX è una cosa molto comoda. Questo è l'altro punto forte che abbraccia soprattutto React, un pochino anche Polymer, ed è il discorso props, states e one-way data flows. Quindi dopo l'MVC il two-way data binding è la nuova cosa che fa schifo. Perché sappiamo che il mondo del web è fatto così, l'un o l'altro fa schifo. Appunto MySpace sembrava che se non eri su MySpace non esistevi, poi il giorno dopo MySpace fa schifo. Il two-way data binding non piace più, e dopo vedremo perché. Quindi si passa a un modello di one-way data flows, ovvero i dati, il flusso di dati appunto scorre dall'alto verso il basso, dai parent verso i children. Raramente il contrario. Infatti vengono definiti di oggetti chiamati props che sono immutabili, ovvero che non potete modificare, come dice la parola bassa e dice, bravo campione, vedete il soldino immutable. E gli states che invece sono mutabili, ovvero quei dati che all'interno del componente possono subire delle modifiche. Però attenzione, in React se volete modificare gli states non li modificate direttamente. C'è un metodo che si chiama setState. Perché l'oggetto, se voi avete un oggetto che definisce una serie di stati del vostro componente, per esempio un componente che mi renderizza un ID card, allora c'ho lo state che magari dice quanti anni ha la persona, dove abita, vi dicendo. Se faccio delle modifiche non altero l'oggetto stesso, viene creata tra virgolette una copia, viene creato un nuovo stato. E questo è importante. Nella nuova generazione di framework di JavaScript si lavora tanto con l'immutabilità dei dati. Perché? Perché vi aiuta a mantenere la sanità mentale. Poiché il fatto di fissare le strutture degli dati è una cosa che effettivamente facilita molto lo sviluppo. Le props e gli state possono essere passati ai child come props. Le props, per farla breve, sono componenti, quindi creiamo dei tag customizzati, le props sono l'equivalente appunto delle proprietà del nostro tag. Solo che appunto una volta che il componente le riceve, il componente che riceve le props non le può più modificare. Può modificare solo gli states. Che poi a sua volta può mandare come props a un componente al suo interno. Quindi si va a creare un flusso unidirezionale. Se poi devo tornare su dal parent per rimettere dentro dei nuovi dati per fare qualcosa, utilizzo un evento. Un sistema di eventi. Quindi lancio un evento, faccio scattare un evento, l'evento viene ricevuto dal parent che riceve quei dati e fa di nuovo scorrere giù il nuovo contenuto. Quindi vedete che tutto è un flusso a senso unico. Molto simile al concetto di cascading dei CSS. Quello che succede in React e anche in Polymer è che ogni volta che un componente riceve dei nuovi state o props viene rirenderizzato. Quindi e qua si va a rifare il comportamento simile a quello di Angular. Quindi ok, non c'è il two-way data binding, è one-way, ma quando il componente riceve dei nuovi dati dal parent rirenderizza. Quindi non dobbiamo andare a manella come in GQ a gestire i cambiamenti. L'altra cosa che ho imparato a usare mettendo le mani a con React è stato Webpack, che tanti confondono come un'alternativa Gulp. Webpack non è un'alternativa Gulp. Webpack è solamente un sistema di build. Lavora in coppia volendo anche con Gulp, perché Gulp invece, Gulp o Grant, quelli che volete, sono dei task manager veri e propri. Gestiscono tantissimi tipi di azioni, ovviamente su un server, fanno il watch dei file, possono modificare i nomi dei file, directory, fanno veramente una svalangata di cose. Webpack si occupa principalmente solo di gestire e unire i file javascript. Per farla breve, danno un concetto chiaro, anziché fare come a destra, inserire tutti i script nell'HTML nell'ordine giusto, che se ne sbagli uno, esplode il mondo. Con Webpack cosa succede? Ogni javascript può fare un require di un altro file javascript. Quindi io vado a definire le dipendenze di ogni file verso un altro file e alla fine Webpack mi risolve tutte queste dipendenze e mi dà un solo file, il famoso bundle.js. Quindi io nell'HTML metto un solo file, i vari file javascript si chiamano fra di loro con il require e quindi non c'è più bisogno di metterli nell'ordine giusto. Si occupa Webpack di risolvere tutti i vari require. E questo vedrete che dopo un pochettino che si usa risolve tantissimo una serie di mal di testa. Poi vi do anche un paio di risorse. Usare Babel ed ECMAScript 6. Perché usare Babel è importante? Perché se vuoi iniziare a mettere le mani su ECMAScript 6 e mi conviene farlo dato che uno è stato standardizzato, due React l'uso in maniera pesante, anche Polymer ha intenzione di farlo, tutti i framework della prossima generazione saranno basati su S6, è importante iniziare a metterci le mani ora. Però se usiamo S6 oggi non gira sui browser vecchi. E allora Babel mi dice fermo lì, tranquillo, tu scrivi in S6, io ti faccio il transpile in S5. Perché in realtà tante novità di ECMAScript 6 non sono cose che i browser non sanno fare, non sanno fare con quella sintassi. Quindi possono essere interpretati in un altro modo. In più Babel, oltre a farmi questo gioco di prendere l'S6 e tirarlo giù in S5, è anche compilatore di JSX. Quindi prendo il codice JSX e lo trasformo in JavaScript pulito. Ancora più importante, è diventato il compilatore ufficiale di React. Nella homepage di React prima c'era uno script JS che serviva a trasformare il JSX in JS per farlo leggere al browser, perché JSX se no non funziona. L'hanno deprecato, l'hanno tolto e hanno detto ragazzi usate Babel. Poi Babel può essere collegato a Webpack e Galp per dire ok, man mano che modifica il mio file, quello viene traspilato in ECMAScript 5, viene compilato il JSX, vengono risolti i vari require e mi crea il mio bundle con tutto il codice. Questa è una cosa molto importante se avete nostalgia di Angular, React Templates. Dopo un po' che stavo impazzendo con questo maledetto JSX, scopro che i ragazzi di Wix hanno creato questo sistema che si chiama React Templates, che espone la parte di template estetica di React in maniera molto simile a quella di Angular, dove quindi posso finalmente fare anche dei file esterni, ma avere una sintassi più legata all'HTML, però lavorando con React. Aggiunge ovviamente un pochino di codice, un pochino di boilerplate al vostro codice, però vedremo tra poco che c'è un case history molto comodo. utilizzando React Polymer l'altra cosa che ho scoperto è che posso costruirmi il mio stack, perché avevo problemi togliendo, una volta che ho perso Angular stavo impazzendo, perché Angular mi dà tutto, è il padre anche troppo gentile, sappiamo che se non andiamo almeno due sberle ogni tanto non facciamo crescere i bambini, piano eh, sto scherzando, sberlettina, srubano le caramelle, sì, no, no. Quindi noi eravamo abituati con Angular ad avere tutto dentro Angular. Qua invece abbiamo la libertà di poterci scegliere noi come comporre il nostro stack frontend. C'è questa lista che viene messa a disposizione da quelli di React, un po' nascosta, dove vengono elencate una serie di risorse che loro consigliano. Se vuoi lavorare con React, dai un'occhiata a queste cose qui, divise per categoria. Vi dirò, le mie preferite sono state la Polyfill per la Fetch API. Fetch API è un'API che è stata introdotta quest'anno, che per farla breve vi permette di fare le chiamate asincroni tipo jQuery ma senza jQuery, è un'API nativa del browser. Però non usate più l'XML HTTP request, usate una sintassi più comoda e soprattutto le promise. La Polyfill serve solo a farlo girare sui browser vecchi. Flattenon Director, che è un router molto simile a quello di Angular, che tra l'altro funziona anche lato server, quindi potete usarlo anche in Node. Se volete stare su React, React Router, che è quello tra vi ho detto ufficiale. Lo Dash per quanto riguarda le utility JavaScript. Quindi c'è bisogno di tirare un array e tirare fuori l'indice di tutti gli elementi che hanno la proprietà X settata Y. Anche se ormai, se volete stare su React, ormai c'è un full stack di React perché da giugno ad adesso sono stati rilasciati altri blocchi da parte di Facebook. È stato rilasciato Flux, è stato rilasciato Relay, GraphQL. Quindi ormai React inizia ad essere un po' più completo. erano partiti per fare gli alternativi ad Angular e adesso stanno diventando un po' il nuovo Angular, con la differenza che è modulare. Potete in qualunque momento dire no, non uso più React Router, ci uso qualcos'altro e funziona lo stesso, se siete bravi. Quarta parte, quindi dopo che ho imparato tutte queste cose qui, diciamo che ho risolto tutta le serie problematiche, ho riuscito a far funzionare un po' le cose come volevo, ho raggiunto una serie di conclusioni. Innanzitutto quando si parla di filosofia non è che sono un filosofo, è per dire qualcosa di puramente teorico e questo meme penso rappresenti molto bene la filosofia a livello informatico. Lascio leggere un secondo perché è un po' lunghino, però è, ne vale tanto la pena. Vado, posso cambiare? Allora, come dicevo prima, la cosa importante concentratevi più che altro sul meglio comprendere, sul approfondire il mediator pattern e i web components, più che React o Polymer. Perché appunto il meccanismo di base, ve l'ho raccontato poco fa, tutti e due i framework si basano su questo. Poi, un'altra, ben afferrato questo concetto, vado velocissimo, scusate, poi un'altra afferrato questo concetto, React e Polymer è solo, a quel punto diventa veramente solo una questione di API da studiarsi e di smanettarci un pochino. Flax, una cosa importante per Flax, se ne parla tanto, non so se c'è un senso di mani, Flax è veramente complesso, partite dal presupposto che Flax non è stato costruito per voi, come HHVM per PHP, non è che hanno detto facciamo HHVM e PHP per il mondo, no, l'hanno fatto quello di Facebook per se stessi, per un'applicazione che gestisce i dati di un miliardo e mezzo di persone, quindi non è detto che sia per forza il tool giusto per voi. Cercate di fare bene anche queste considerazioni. Per workflow stretti tra designer, cioè gente che manipola HTML e CSS e di velo per JavaScript, consiglio vivamente o i React templates o Polymer, perché React è nudo e crudo, se c'è un'altra persona che deve mettere mano all'HTML, vedete che è un po' complesso, perché il JSX non è HTML e soprattutto si incastra dentro tutto un processo di build, quindi non è detto che un HTMLista puro riesca a capirlo in fretta. Vedete che qua, in base a cosa devo fare, mi scelgo il tool giusto, il concetto di fondo rimane sempre quello del mediator. Te controllo for your data binding before your data binding controls you, classica frase da film dei supereroi, controllo la tua rabbia prima che la tua rabbia controllerà te. In Angular erano abituati che ogni oggetto che mettevamo giù aveva il two-way data binding, quindi il two-way data binding viene fatto in una maniera che da Angular è pesante per il browser su applicazioni complesse. In Polymer avete la possibilità di controllare il data binding, di dire se è essere two-way o one-way, quindi non sottovalutate il fatto che potete dire se è one-way o two-way, altrimenti su applicazioni complesse poi diventa un casino. Ricordatevi che qualunque framework o libreria amate, da un periodo che va da 3-5 anni sarà obsoleta, quindi divertitevi ma non affezionatevi troppo, il discorso di prima del crescere. Si è parlato di isomorphic javascript in questi due giorni di Code Emotion. Isomorphic javascript è bello, ma javascript framework agnostica è ancora meglio, perché isomorphic javascript va bene se abbiamo come back-end Node.js, se non ho Node.js tutti i concetti di isomorphic javascript vanno un po' a quel paese, quindi è più importante scrivere codice che possa girare in maniera agnostica su tutti i framework, perché così è più veloce da testare, è più veloce tutto. E soprattutto è più facile da portare, un domani che React non ci sarà più, prendo il suo mio codice e lo schiaffo da un'altra parte. Seguire i trend è importante, ma imparate anche a provare le cose, questo vi darà conoscenza, perché appunto su React ne ho sentite di tutti i colori, ma poca gente esponeva veramente i vantaggi di React, anche perché ci ha messo un po' di fatica, tu dicevano sì è più veloce, è grazie. Vabbè queste qua andiamo un po' velocemente, con questo vabbè l'ultima scusate, giusto per farvela vedere. Vabbè niente, grazie dai, che sono già in ritardo, grazie mille. Grazie a tutti. Grazie a tutti.